bentornati buon pomeriggio eccoci qui con una nuova puntata del morso io sono costantino e io sono emilio ciao buon pomeriggio ciao grazie buon pomeriggio a te emilio come stai si lavora tanto in questo periodo che è un mantra che diciamo sempre no si lavora tanto prima delle feste si lavora tanto dopo le feste si lavora tanto e basta in qualsiasi momento dell'anno si testa bassa e si prova alla fine poi è quello che ci piace fare quindi sì diciamo di sì io sono un po con swift ui quando quando posso in questo periodo come ti dicevo ho ripreso questa questa buona sana abitudine di swift ui sto cercando di disintossicarmi da da ui kit da tutti i problemi tradizionali e a poco a poco sto prendendo sempre più dimestichezza con con questo nuovo framework devo dire che non è male te l'ho detto già l'altra volta adesso sono ad una parte davvero interessante che riguarda la gestione della navigazione sai con navigation link e tutti questi sistemi nuovi di navigation stack che sono molto smart molto leggeri da da gestire perché tu in pratica crei un wrapper dove poi dentro metti tutti i vari oggetti quindi che sono una scroll view una list view o anche una una struttura diversa con un b stack con un lazy stack eccetera lavrappi dentro un navigation stack e poi gli elementi che ci stanno dentro che vuoi rendere quelli responsabili del del pushing del dei nuovi controllori li vrapi dentro dei navigation link degli oggetti di tipo navigation link e in maniera molto interessante anche veloce semplice da da capire attraverso poi delle property di observing puoi direzionare l'utente a seconda di quello che premono quindi dall'entità di oggetto che premono possono andare da una parte piuttosto che un'altra devo dire che questo meccanismo di navigazione mi sta piacendo sempre di più perché tu lo sai bene in in ios uno delle problematiche oramai più complesse da gestire perché le app sono diventate molto grosse è quello legato al routing a come gestire le varie parti di navigazione e quindi c'è chi fa fai da te e crea dei propri framework c'è chi si appoggia in maniera pesante ancora storyboard mi riferisco a dove i kit ovviamente insomma non è una cosa tradizionalmente semplice da gestire mentre swift vai ha una almeno per quello che sto facendo ora che è una cosa molto semplice quindi metto le mani avanti però devo dire funziona davvero bene molto lineare molto preciso e riesce a capire bene dove sei dove vuoi andare e come gestirlo è modellato abbastanza bene almeno per quello che avevo visto durante il wwc purtroppo non l'ho potuto utilizzare io per lavoro uso anzi non uso per niente swift ui lo faccio così un po a tempo perso mi piacerebbe piccola parentesi aprire creare un'app da pubblicare sullo store fatta in swift ui anche un'app stupida giusto per avere un playground da utilizzare per fare sperimentazione e per aggiornarmi di anno in anno man mano che il framework evolve credo sia un buon esercizio che dovrei fare non ho il tempo di farlo ma mi piacerebbe farlo però sì effettivamente una delle grosse novità di quest'anno è stata il sistema di navigazione che è migliorato tantissimo e ti permette anche di rendere persistente lo stato di navigazione per cui gestire anche di link fare cose un pochino più evolute non so come si comporta con scenari più complessi di quelli standard del navigation controller diciamo tradizionale no quindi per esempio mixare che ne so tab bar navigation controller embed dati eccetera eccetera quello andrebbe un attimo studiato però è sicuramente un passo avanti rispetto al niente che c'era prima quindi mi piacerebbe anche vedere qualcosa del genere in UI kit un supporto un pochino più più evoluto rispetto alle soluzioni fai da te di cui di cui facevi menzione prima anche perché UI kit rimane una bella fetta ancora di mercato per quanto riguarda i framework di sviluppo su piattaforma iOS ma non ne abbiamo parlato ma tu ritieni che ci sarà una 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 crescita diciamo così di UI kit ad esempio a questo WWDC che è alle porte oramai tu credi davvero che ci saranno dei cambiamenti in quella direzione o meglio secondo te ci saranno i cambiamenti sia in direzione UI kit quindi innovazione sia in direzione UI kit e anche in direzione Swift UI o magari UI kit resterà un po un legacy framework e tutto alla fetta nuova di di roba che vedremo sarà appannaggio di Swift UI non credo sia ancora il momento di considerare UI kit legacy perché lo usano dentro Apple anche in maniera molto pesante quindi finché continuo ad utilizzarlo mi immagino che dei ritocchi o degli aggiornamenti ai framework che compongono UI kit verranno fatti certo non mi aspetto grosse rivoluzioni da questo punto di vista che ne so un aspetto una pseudo sintassi dichiarativa per UI kit non la vedremo mai evidentemente tutti gli sforzi da questo punto di vista sono fatti su Swift UI però finché Swift UI rimane ancora un pochino sotto traccia all'interno di Apple ritengo che UI kit debba essere ancora supportato e migliorato nei limiti del possibile ovviamente sì a senso assolutamente senti a proposito di WWDC e di innovazioni mi dicevi proprio poc'anzi prima ancora di di entrare in trasmissione mi hai dato un bel gancio per un possibile argomento mi riferisco ad iOS 16.4 sì in pratica quello che succede di solito con Apple almeno negli ultimi anni è che tutte le volte che viene reso disponibile alla massa di utenti una versione di iOS il giorno stesso e il giorno dopo viene aperta la beta della release successiva le cosiddette point release quindi 16.1.2.3 e mi pare che il pattern negli ultimi anni sia stato sempre questo a questo giro invece è stata pubblicata iOS 16.3 e non sono state pubblicate due cose la prima Xcode che è fermo ancora alla versione di dicembre e la seconda è la beta di iOS 16.14 che non c'è quindi siamo in una fase storica di iOS 16 in cui abbiamo soltanto versioni in produzione non versioni beta né dei toolkit diciamo degli ambienti di sviluppo né dei firmware dei device ed è una cosa abbastanza strana per quanto riguarda il comportamento prevedibile di Apple una motivazione che potrei darmi è che vogliono evitare dei leak su delle cose che verranno inserite nella prossima versione minor di iOS è capitato un paio di volte che questa cosa è stata fatta o che delle versioni ancora non rilasciate in maniera pubblica contenessero del codice all'interno di prodotti non ancora annunciati e dato che si parla e si vocifera tanto di questo evento di primavera che dovrebbe introdurre il nuovo handset di realtà aumentata slash virtuale chissà che le due cose non siano collegate tu cosa ne pensi ma io lo do io sono un sensazionalista nel senso che sono un po fanboy il mio il mio essere fanboy prende sopra il vento quando quando sento e ascolto cose di questo tipo quindi do per per buona questa ipotesi perché chiaramente se tutto funziona come è stato detto più volte da da bloomberg ma anche da 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 altre testate autorevoli il il nuovo headset di di Apple reality pro sembra che si chiamerà così uscirà prima o comunque in quasi congiunzione con la wwdc e quindi questo significa due cose significa che non ci sarà il tempo per aspettare ios 17 e soprattutto che quindi arriverà a ridosso di una di una minor release chiamiamola così quindi con 16.4 16.5 o qualche sarà ricordo per gli ascoltatori che quello che dicevi tu è assolutamente reale e sensato perché il sistema operativo quindi quello che noi tutti aggiorniamo quando arriva la notifica sul nostro iphone si porta dentro tutta una serie di routine di metodi di oggetti di funzionalità che oltre a fare funzionare il nostro telefonino meglio si spera con ogni aggiornamento si porta dietro anche una serie di informazioni che sono legate anche ad altri dispositivi con cui il nostro dispositivo dialoga chiamiamoli driver un po per per parlare con metafore anni 80 cioè dire il sistema operativo ha dentro tutto quello che serve per dialogare con dispositivi terzi che possono essere di Apple ma possono essere anche di di case terze quindi ad esempio che so i joypad di di playstation piuttosto quelli di nintendo per funzionare correttamente con il nostro iphone c'è bisogno che il sistema operativo li riconosca correttamente quello che dici tu trova una sua collocazione esattamente in questa discussione perché quando uscirà questo reality però ci sarà necessità per il sistema operativo del nostro iphone di poter dialogare con lui per poter scambiare messaggi per potersi sincronizzare un po come avviene con il nostro Apple Watch e se questo fosse appannaggio della 16.4 chiunque non appena uscirà la 16.4 la prima cosa che si farà sarà andare a controllare tutte le stringhe di testo che ci sono dentro il file di aggiornamento piuttosto che andare a reversare quello che ci sta all'interno dell'aggiornamento per andare a cercare di carpire queste meccaniche queste questi segreti che sono nascosti dentro il il sistema operativo stesso stessa cosa anche per xcode anche quella è un bel gancio che è dato perché tipicamente ad aggiornamenti measure come quelli che ci sono stati corrisponde anche un aggiornamento del dell'ambiente di sviluppo che appunto è fermo a a dicembre adesso siamo febbraio quindi anche questo è un po sospetto queste due cose insieme non fanno che far pensare a questo a questo evento di di aprile e poi chiaramente nessuno può avere la certezza di questo però secondo me ci sono altissime probabilità che ci si muoverà in 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 questa direzione speriamo invece relativamente a roba nuova leggevo e questa è una cosa che a me piace tantissimo come 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 idea se ti ricordi ne abbiamo parlato tante volte una delle delle già si parla di iphone 15 è una delle cose più interessanti che sembra essere oramai accreditata anche perché io questo non lo sapevo ma andando un po a googlare in giro ho visto la concorrenza samsung lo fa già c'è già un telefono di fascia altissima di samsung che ha delle lenti periscopio messe dentro e una delle caratteristiche appunto che sembra essere per la maggiore per ora relegata sembrerebbe soltanto al max o all'ultra a seconda di come si chiamerà sembra essere appunto queste delle delle lenti periscopio all'interno del sistema giusto per fare un minimo di recap una lente periscopio non è altro che un meccanismo già collaudato tant'è che altri produttori ce l'hanno già dentro che funziona che in pratica riflette l'immagine che arriva al sensore attraverso degli specchi a 90 gradi quindi c'è la possibilità di allungare la focale della della lente senza che questa debba per forza uscire dal suo alloggiamento cioè dal dall'enclosure che abbiamo detto dove ci sono le tre lenti per intenderci e quindi a tutti gli effetti creare una lente zoom senza che si muova la parte fisica statica che c'è dietro il nostro la nostra il nostro telefono ora quanto sia qualitativamente come dire ottimale da un punto di vista qualitativo una lente che utilizza questo trick per fare quello che in realtà le lenti zoom di qualunque macchina fotografica fanno in maniera fisica non lo so però già altri produttori l'adottano quindi sembrerà sembra che questa sia la nuova grande innovazione che ci sarà con i nuovi iphone sì l'ho letto anch'io e credo sia l'unica strada percorribile per avere anzi per migliorare la qualità ottica dei device senza avere spessori importanti del comparto fotografico quelli che non ci piacciono se vuoi perché una lente periscopica ti permette di diciamo sfruttare lo spazio all'interno del case in verticale o meglio in maniera trasversale quindi e non in maniera in estensione verso l'esterno quindi immagino che si stia facendo molta ricerca da questo punto di vista io non credo che la qualità sia peggiore o comunque sia inficiata da questo meccanismo perché poi di base sempre di parliamo di rifrazione di luce no cioè alla fine invece di averla diretta all'interno delle lenti viene mediata attraverso un gioco di specchi lasciami passare questa questa metafora che poi un po' anche i meccanismi che abbiamo avuto nelle reflex diciamo tradizionali no sì però sai cosa mi lascia perplesso allora ben venga l'innovazione come al solito sono una persona mi piace tantissimo innovare e quindi mi piace tanto anche vedere innovazioni nei prodotti quindi ben vengono però applicare questa innovazione fine a se stessa allo zoom non lo so mi lascia perplesso cioè dire io se vogliamo essere pignoli tutto posso criticare sul mio iphone tranne che la mancanza di uno zoom ottico che so 30x un 50x in realtà non è una cosa almeno nei miei usi non è una cosa che mi farebbe gridare al miracolo quello che invece mi piacerebbe sarebbe avere un iphone con un design dietro un po' più compatto per intenderci un ritorno agli iphone 5 agli iphone 6 top se proprio non si può tornare a una zona completamente piatta come quella dell'iphone 5 insomma riuscire a ridurre quella protuberanza che c'è dietro attraverso dei meccanismi ad esempio come quello che abbiamo appena detto dei degli specchi riflessi a 90 gradi sarebbe già una grande cosa anche perché correggimi se sbaglio io non sono un fisico però aumentare lo zoom ottico sì di per sé non porta delle problematiche rispetto alla luce rifratta riflessa che che arriva al sensore però porta dei problemi relativamente alla stabilizzazione dell'immagine perché più è grande questo zoom più è necessario computare una stabilizzazione a livello ottico e anche a livello software più pesante sì ma infatti secondo me l'obiettivo diciamo principale non è tanto quello di avere dei super zoom a livello ottico quanto quello di riuscire a ridimensionare un pochino l'ingombro che fotocamere diciamo di qualità superiore necessitano utilizzando il layout diciamo tradizionale quello che abbiamo fino adesso conosciuto negli smartphone infatti non so se tu hai visto i nuovi samsung quelli che sono stati presentati no no ecco se vi vai a vedere la parte posteriore dove ci sono le fotocamere molto più discreta rispetto al passato comunque rispetto agli iphone non hanno quella protuberanza per intenderci hanno sempre le lenti sporgenti con una sorta di diciamo di ghiera no un po come erano gli iphone 6 se non ricordo male 6 6s però diciamo se li vai a controllare sembra completamente diverso rispetto al design a cui siamo ormai abituati sugli iphone ora non so quanto sia lo spessore di tutto il device samsung sto guardando però mi sembra abbastanza sottile bello dietro sì sì non è male non è male è molto più 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 compatto più elegante come onestamente non per male io amo il mio iphone però dietro ne abbiamo parlato tante volte tutto è tranne che elegante quella quella zona dietro vedremo poi tra l'altro sembra che vogliono anche condire questa cosa qua con con un case nuovo soltanto per la versione pro con un case in titanio un po come come c'è sul sugli apple watch sì è diciamo anche qui fa parte di evoluzione dei materiali forse anche un po per diversificare la fascia premium da quella un pochino più consumer a me diciamo l'esperimentazione sui materiali mi è sempre piaciuta in apple quindi ben venga qualcosa di diverso rispetto all'acciaio che non mi fa proprio impazzire io ormai a più di un anno che ho il 13 pro devo dire che non mi dispiace ma non mi fa gridare al miracolo di quanto è bello questo questo device sarà che forse mi ero ormai troppo abituato alle versioni un pochino più arrotondate rispetto a queste squadrate non lo so non non sono non non è non è scoccata la scintilla tra me e l'iphone 13 pro quindi se arrivasse qualcos'altro in futuro a livello di design e diciamo di ergonomia non mi dispiacerebbe ma secondo me quello che fa sai cosa fa la grossa differenza in questi dispositivi non è tanto l'acciaio che comunque assume un ruolo davvero marginale nel se tu prendi in mano il tuo telefono senza 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 custodia vedrai che quello che fa davvero il materiale chiamiamolo così del primario del dello smartphone è il vetro davanti e dietro e questa cosa qui secondo me ci sono delle delle limitazioni legate e alla l'induzione quindi per la ricarica induttiva dei nuovi dispositivi però tutto questo vetro non lo so quanto possa essere utile in un telefono di nuova generazione cioè se si riuscisse a tornare a materiali un po più più leggeri più versatili come il policarbonato secondo me non sarebbe male capisco che non è premium il policarbonato per definizione non è premium però da un senso di leggerezza di compattezza che il vetro per quanto materiale nobile secondo me non sì potrei anche diciamo rinunciare a queste caratteristiche diciamo premium su device di fascia alta per dei materiali un pochino più chiamiamoli chip però che diano una sensazione un pochino più di maneggevolezza di leggerezza io ripeto secondo me l'iphone più riuscito è stato il 6 in tutte diciamo le sue incarnazioni successive quindi 6 plus o 7 diciamo in mano mi dava questa sensazione di leggerezza di maneggevolezza che non ho mai trovato in nessun altro device successivo quindi a me non dispiacerebbe tornare a materiali un pochino più meno nobili diciamo come il vetro poi penso che i prototipi loro li abbiano e non li facciano uscire sì però magari loro poi scelgono quello che conviene di più a loro quello che loro pensano sia migliore comunque devo dire secondo me la butto lì poi vedremo se questa sarà una previsione corretta non ci sarà mai un iphone ultra perché chiaramente il brand è stato già rubato da da samsung cioè sto vedendo qui nella line up nuova che hanno c'è questo galaxy s23 ultra quindi sarebbe davvero una cioè si aprirebbe la strada per una polemica infinita che finirebbe con dei meme infiniti su su tutti i vari social se dopo l'uscita del galaxy s23 ultra avesse la triste idea di tirare fuori l'iphone 15 ultra non 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 credo non credo non credo che ci sarà anche perché ce l'hanno già cioè hanno hanno già il branding con il max quindi non lo so la vedo difficile che che ci sia un pivoting nel naming nel branding rispetto al modello di punta secondo me resterà max comunque devo dire sono davvero belli questa questa serie s23 parlo del l'ultra non lo so io non mi trovo con queste cose con pennini super grandi eccetera abbiamo parlato l'S23 normale questo parlo della parte dietro con le tre fotocamere in line up verticale in stack verticale molto discrete secondo me non sono assolutamente male se questo se questo è il risultato della dell'utilizzo di del come dicevi tu del del lenti a periscopio benvengano speriamo che lo facciano lo facciano subito a proposito di risultati abbiamo dimenticato di aprire la puntata con una novità che c'è stata proprio in questa in questa settimana e abbiamo cambiato leggermente noi noi siamo un po minimal seguiamo apple no quindi abbiamo questi cambiamenti minimali anche nel nostro podcast magari gli ascoltatori più attenti l'avranno notato c'è stato un piccolo changing di di artwork nella nella locandina che è un po da da giustizia al fatto che in realtà siamo in due non sono io soltanto a fare il podcast e quindi da questa però abbiamo anche aggiunto un po di 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 grafica che che dà un senso di di rinnovata per per quest'anno che che arriva magari se qualcuno ha dei commenti ci piacerebbe ascoltarvi i canali ci sono di comunicazione li trovate nel nel podcast e quindi sarebbe bello ascoltare un po quali sono i commenti degli degli ascoltatori parentesi diciamo podcast a parte ecco ci sono anche delle altre e dei nuovi leak a proposito di leak relativamente a dei foldable device che apple vorrebbe perché sta portando avanti quindi oltre a reality pro eccetera sembrerebbe che ci sia questa linea di ricerca e sviluppo parallela in cui dei dispositivi foldable in carbonio possano prendere il posto degli ipad tradizionali per di più potrebbe essere molto utile questa cosa qua anche per un super rumored dispositivo da 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 tavolo che faccia un po prende il posto della apple tv come hub centrale all'interno di un ecosistema apple per chi non lo sa se si vuole utilizzare appieno le funzionalità di home kit in un ambiente in un ecosistema apple è necessario avere un hub un hub può essere un ipad ad esempio ma può farlo anche un apple tv ecco da quello che leggevo apple sta direzionando molti sforzi legati appunto a delle innovazioni su display che possano anche essere spostate su dispositivi da tavolo un po per intenderci credo che lo faccia amazon questa cosa con alexa insomma c'è questa direzione che secondo me non è male anche se non lo so apple non mi pare abbia mai puntato molto sul sull'aspetto touch visivo piuttosto la ha puntato tanto sulla sulla sull'aspetto audio quindi mi riferisco agli on pod ne sono uscite nuove versioni insomma sembra essere stata sempre più discreta rispetto ad altri quindi che ci sia questo cambiamento mi lasci un po perplesso anche se rumors dicono questo io non ci credo se dovessero onesto perché comunque se vai a vedere gli investimenti anche diciamo a livello di immagine che ha fatto apple negli ultimi anni è stato quello di gestire questi dispositivi sempre con la voce tramite siri ha fatto anche il tire di apple music quello controllabile solo con la voce che costa meno non so se ti ricordi ancora che esiste questa cosa per cui creare un device che serva solo come ab diciamo di casa mi fa stranissimo considerando che alla fine quasi tutti gli utenti che hanno bisogno di questa roba hanno quantomeno un iphone o un ipad già ce l'hanno un apple tv quindi faccio faccio fatica anche perché diciamo gli hub di questo tipo si sono dimostrati essere al momento almeno un hobby per apple più che un prodotto diciamo su cui apple ha investito tanto se devo essere se devo essere sincero quindi anche lo stesso la stessa storia dell'home pod un po lo dimostra prima presentato quello grande poi abbandonato poi il mini poi ritornato quello grande che però è come quello piccolo cioè diciamo è come quello vecchio insomma non lo so non vedo grossi sforzi da parte di apple nell'entrare in un mercato del genere competitivo non vedo neanche tanti casi d'uso interessanti per l'apple di oggi poi magari le cose cambiano con il tempo mi sembra più un rumor così collaterale che non notizia reale ecco sì sì ma magari ci stanno lavorando davvero su dispositivi pieghevoli che potrebbero trovare una loro desinenza appunto come dicevamo all'inizio su ipad o macbook di nuova generazione però sì io sono d'accordo con te non non vedo sebbene sia titolata da tanti blog settoriali questa storia qui io non la vedo come una cosa realmente applicabile cioè sono d'accordissimo con te non mi sembra che apple abbia un un'intenzione chiara di entrare nella casa degli utenti attraverso dei dispositivi visuali quindi con dei display monkey che si mettono sul tavolo eccetera non lo trovo molto neanche da apple esatto ma soprattutto non ha senso fare un device che sia così specifico come caso d'uso sì hanno più interesse a venderti quelli che già hanno iphone ipad o altra roba che ti possono anche vendere a prezzi più alti per fare le stesse cose sono d'accordissimo invece notizia che mi ha lasciato davvero perplesso non perché io ne sia un utente ma perché questo trova sempre spazio per interpretazioni secondarie rispetto a quello che realmente succede quando scarichiamo un app mi riferisco anche ai nostri ascoltatori no la notizia di facebook che un un impiegato pentito chiamiamolo così un ex impiegato un impiegato non ho ben capito pentito di di facebook raccontava al new york post che è una pratica comune consolidata e precisa di facebook quella di scaricare in maniera deliberata la batteria degli utenti per fare delle prove su cosa succede sul dispositivo dell'utente quando il batteria del telefono cioè quando il telefono va in low power mode quindi con poca batteria e vedere come l'applicazione facebook in questo caso si comporta in queste circostanze e al di là del fatto che chiaramente zugenberg non perde occasione per non farsi sparlare non riesco a vederne altro modo questa cosa sono due due persone che davvero non riesco a tollerare che sono una zugenberg e l'altra elon musk però cioè entrambi facenti parte del mercato cosiddetto dei social però lasciando perdere questo questa cosa qui è una considerazione assolutamente a margine e personale quello che mi lascia perplesso è come possa oggigiorno succedere una cosa di questo tipo cioè dire scaricare un'app è un'operazione che l'utente oramai è così abituato è così trusted così affidabile come operazione mi riesco quella di scaricare un'app dall'app store che si porta dietro delle problematiche pericolose come appunto questa cosa qua cioè dire permettere ad uno sviluppatore terzo di poter creare dei disservizi a livello di utilizzo proprio del dispositivo in questo caso dell'iphone attraverso un'applicazione è davvero una cosa che fa riflettere ora chiaramente questo non è puntare il dito contro apple contro l'app store perché ci sono poche strategie con cui è possibile prevenire una situazione di questo tipo perché se io scarico l'app questa app si porta dietro una logica silente per cui facendo una chiamata al server di facebook ad un certo punto per l'utente xyz si scatena un comando del tipo scarica la batteria apple quando fa la review dell'app non lo possa avere né tantomeno può andare ad interpretarlo attraverso quello che ha perché ricordiamo quando si sottomette un'app apple non ha i codici sorgenti dell'applicazione ma bensì ha il compilato cioè l'applicazione vera e propria che un reviewer di apple testa in maniera manuale e vede che tutto funzioni come si deve quindi che ci siano l'aderenza tutte le guideline che sono state specificate dalla policy con apple e così via quindi una cosa di questa non la si può testare prima forse l'unico modo che c'è per prevenirla o comunque per come dire contenerla è quella di andare a bloccare l'app quando ci sono delle segnalazioni di questo tipo però non è una cosa così semplice farla con un colosso come meta no non è semplice infatti quello che ha fatto apple in passato è rendere consapevole l'utente di quello che stesse succedendo nel device quindi se tu vai adesso nelle impostazioni di ios nella sezione batteria puoi vedere i consumi quale sono le app che hanno consumato più la batteria se ci sono app che drenano eccessivamente la batteria e lasciare l'utente diciamo decidere se è un comportamento che per lui va bene oppure no quindi banalmente io vedo che l'app di facebook mi mangia la batteria in mezza giornata posso decidere di disinstallare l'app di facebook e non utilizzarla più certo ovviamente più grande l'azienda più è importante il servizio che l'azienda offre e meno io sono incentivato a privarmi delle app dei servizi di quell'azienda quindi da questo punto di vista esatto quello che potrebbe fare apple parliamo del caso specifico perché poi diciamo di violazioni di questo tipo ne sono uscite tante negli anni e da parte di tante aziende nel caso specifico per quanto riguarda la batteria apple potrebbe fare un po di auditing utilizzando appunto gli strumenti che già esistono all'interno di ios e alzare delle bandierine nel caso in cui rileva dei diciamo dei comportamenti anomali da parte delle app quindi delle procedure automatiche all'interno del sistema operativo e dopodiché apple alza il telefono chiama mark zuckerberg gli dice amico qui c'è qualcosa che non funziona non so se è deliberato oppure no però cerca di di risolvere la questione oppure potrebbe limitare banalmente in maniera programmatica diciamo quello che le app possono fare o il tempo di cpu che le app possono possono impiegare nel momento in cui questa cosa qui sia già così cioè direi sì ma ci sono tanti modi per bypassarlo insomma non è così non è così facile ok ok un po mi ricorda questa cosa qui quello che si faceva all'inizio di di questa bellissima esperienza che quella del dello sviluppo di app c'era questo call back home che si faceva quando non si era sicuri che una caratteristica era gradita ad apple allora si partiva in un modo e allora poi l'app una volta che era approvata chiamava il server a casa e si si riauto configurava la home aggiungendo delle funzionalità togliendone delle altre così che si sperava che apple poi non rivedesse l'app poteva stare con queste nuove funzionalità che è un po quello che sembrerebbe stia facendo in questo momento facebook no cioè direi per certi tipi di utenti e per campioni di utenti a casa non so come dire appunto viene scaricata questa batteria per creare dei test negativi che poi non ho ben capito che diavolo loro possano tirarne fuori come come esperimento cioè come risultato come come dati che cosa cosa prendono da questa da questa roba qua non lo capisco onestamente non lo so dovremmo chiedere a loro io diciamo inorridisco quando leggo queste notizie o sento queste queste voci mi viene voglia di disinstallare tutto ma infatti comunque se tu vedi spesso queste app utilizzano come cavallo di troia diciamo così per fare questi magheggi i permessi diciamo eccezionali che tu gli puoi concedere come per esempio l'aggiornamento in background la localizzazione esatto la localizzazione quindi da questo punto di vista io cerco di essere il meno permissivo possibile con le app di terzo comunque di quelle di cui so già che non mi posso fidare anche a costo di avere un'esperienza un pochino più castrato io ci fu un periodo addirittura che ho disinstallato l'app di facebook e ci andavo tramite safari sul sito poi vabbè ho lasciato perdere però per esempio le notifiche le tengo tutte disattivate anche l'accesso alle foto è eliminato non gli faccio fare praticamente nulla l'accesso al microfono niente di niente l'unica cosa su cui non si può fare nulla è l'esecuzione di audio in background quello è un permesso che le app possono prendersi a livello di infoplist quindi diciamo per default senza chiedere l'autorizzazione all'utente e possono per esempio aprire un player in modo che venga eseguito un audio anche senza niente cioè quindi un silenzio essenzialmente in background con solo obiettivo di tenere l'app in vita anche se l'app è chiusa però questo te lo deve approvare apple sì te lo deve approvare apple però è abbastanza è un permesso abbastanza semplice da farsi approvare perché alla fine tu dici io eseguo che ne so un è un app che mostra dei video quindi con player video è l'audio in background te lo fai te lo fai approvare per questa ragione quindi non è non è complicato ecco sì a quel punto una volta che l'audio in background metti questo silent questo white noise per intenderci in in background e quindi puoi fare quello che vuoi cioè puoi tenere aperte processi di di network puoi far scaricare la batteria facendo un loop infinito insomma c'è di tutto di più magari è proprio quello che sta facendo facebook perché credo che comunque io non ho l'app facebook però credo che loro abbiano questo tipo di permessi perché appunto c'hanno i video c'hanno c'hanno l'audio insomma non è non è non è difficile per loro farsi approvare questa tipologia di permessi immagina come sarà bello il mondo con il side loading mamma mia ma infatti guarda ne abbiamo parlato tante volte in passato l'anno scorso cioè questa storia qua del del side loading io spero che fino a quando apple avrà la forza lo respinga tutto tondo perché diventerebbe davvero una una un'arena non più governabile perché oramai l'interesse di tutte questa questa serie di persone di queste aziende di dubbia etica è proprio quella di arrivare al tuo telefonino non più tanto il computer perché il computer è uno strumento oramai lasciami dire non in disuso però non è importante quanto il dispositivo mobile e arrivare a quello è l'obiettivo di tutti e se non c'è nessuno che pone delle delle barriere da questo punto di vista diventa pericoloso android in realtà ce l'ha questo side loading però devo dire anche che questa pratica del side loading non è così comune tra gli utenti scusami il gioco di parole comuni io ho tante persone che conosco che utilizzano android e loro non hanno neanche idea che si possa fare questa cosa cioè che tu possa scaricare un'app che non sia una che scarichi dal play store di google non so quanto questo sia giochi a favore di android o meno perché allo stesso modo come tu non sai che questa cosa possa succedere può capitare diciamo che qualcuno ti inoculi senza che tu lo sappia un'applicazione dentro il telefono quindi è sicuramente una cosa pericolosa forse se se proprio si deve fare questa cosa qui servirebbe un qualcosa tipo quello che c'è su 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 mac no cioè da preferenze devi esplicitamente abilitare la particolare applicazione cioè quando scarichi un'app sul tuo mac os la provi ad aprire se non è un'applicazione correttamente firmata attraverso i meccanismi standard di apple allora ti appare il pop up che ti dice guarda che questa applicazione l'hai scaricata da internet non è ufficialmente firmata è firmata da una persona sconosciuta quindi o mi dici che la vuoi aprire in maniera esplicita oppure io non te l'apro e magari si potrebbe fare una cosa di queste con un toggle a livello di setting che di default è staccato e quindi nessuno ti può mettere dentro dell'applicazione a meno che non lo fai manualmente magari questo potrebbe essere un modo per salvare capre e cavoli quindi accontentare la comunità europea e tutti quelli che stanno stressando apple da questo punto di vista e allo stesso tempo garantire la sicurezza cioè dire non lo so idea buttata lì se può essere utile a qualcuno sì io onestamente più ci penso e più mi viene la depressione quindi spero che questa cosa non succeda mai ma ho il terrore che avremo brutte notizie a giugno da questo punto di vista ma vero? già questo giugno secondo te ci sarà qualcosa da questo punto di vista? secondo me sì secondo me questo è l'anno buono o brutto a secondo dei punti di vista sì probabilmente sì sono stati troppo circostanziati i rumor di qualche mese fa al riguardo quindi credo che quest'anno ci saranno delle novità vedremo, ne discuteremo, ne parleremo più avanti quando ne avremo la certezza beh vedremo va bene Emilio credo che il nostro tempo che ci siamo dati a disposizione come al solito sia arrivato quindi non mi resta che augurarti un buon fine settimana e a risentirci settimana prossima grazie ciao Emilio ciao 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 ciao